Gli ulteriori tagli regionali al trasporto su gomma in Irpinia continuano ad animare il dibattito politico in provincia di Avellino. Ne hanno parlato a Grotta Minarda in occasione del dibattito sull'alta velocità Napoli-Bari il presidente della provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, e il presidente della commissione trasporti della regione Campania, Luca Cascone. Se il primo inquilino di Palazzo Caraccio l'ha spiegato che si cercherà di risolvere i tagli con fondi del bilancio, l'esponente della regione ha chiaramente e fortemente spiegato che ci sono responsabilità ben chiare delle ultime giunte provinciali. Il trasporto pubblico locale ovviamente risente della difficoltà complessiva che riguarda tutte le regioni d'Italia. Tagliare nelle zone periferiche naturalmente comporta penalizzazioni maggiori per i pendolari, per gli studenti che ovviamente rischiano di maggiori penalizzazioni perché più lunghi sono i loro tempi di percorrenza verso Napoli per chi studia o anche per chi lavora. Quest'anno proveremo a rimediare con il bilancio inserendo delle somme, ma speriamo di avviare una razionalizzazione d'accordo con la regione che eviti queste penalizzazioni molto pesanti nei confronti di chi prende gli autobus pubblici. Credo che sia giusto dire la verità. L'Irpinia negli ultimi 4-5 anni ha ricevuto e riceve gli stessi fondi da parte della regione Campania. A partire dal 2011 purtroppo le scelte scellerate della giunta Caldoro hanno comportato un taglio in tutta la regione Campania legato ai servizi, con l'inglobamento dell'IVA all'interno dei trasferimenti. Tutte le province e tutti i comuni che in questi anni si sono organizzati per riprogrammare i servizi, ovviamente facendo delle scelte importanti, investendo fondi del proprio bilancio o facendo delle scelte di tagli. La provincia di Avellino negli anni ha deciso invece di fare delle cause contro la regione Campania, lasciando inalterati i servizi previsti. E' chiaro che chi basa i propri servizi su delle cause da vincere, nel momento in cui non vince le cause, si trova nelle condizioni in cui ci sono oggi. Quindi si ipotizzano dei tagli, si trasferiscono alla parolatoia quando il taglio non esiste. E' sempre stato lo stesso negli ultimi 4 anni, solo che fino ad oggi veniva compensato con delle cause probabilmente giustamente sostenute e vinte, ma che oggi non sono più impugnabili perché gli atti sono stati fatti in una maniera più corretta di prima. Quindi ad oggi dobbiamo solo registrare che in questi anni la provincia di Avellino, è l'unica provincia di regione Campania che non sia adeguata alla riprogrammazione e alla riorganizzazione. Non parlo solo dell'ultima giunta, parlo anche di chi c'era prima. E quindi inevitabilmente oggi ci troviamo a pagare uno scotto che andava ammortizzato in 4 anni e ce lo ritroviamo tutti nel 2016.